Aveva prenotato la casa al mar ad un prezzo stracciato, ma in realtà si trattava di una truffa. Anche nella provincia di Arezzo, in pieno clima vacanziero, si moltiplicano infatti casi di raggiri regati alle ferie. L'ultimo episodio si è verificato a Sansepolcro, dove una 35enne aveva prenotato via email un appartamento in Riviera Toscana, versando tramite un bonifico bancario 300 euro di caparra, ma quando ha provato a contattare il proprietario, quest'ultimo si è reso irreperibile. La donna si è così presentata al commissariato di polizia a Sansepolcro per denunciare il raggiro. Gli agenti dell'ufficio anticrimine hanno così individuato e denunciato un cinquantenne campano per truffa aggravata. L'uomo, assieme ad altri complici, aveva infatti inserito numerosi annunci di case vacanze in Toscana su una piattaforma e-commerce e aveva già truffato decine di ignare famiglie che avevano pagato con bonifico un anticipo per l'affitto in un appartamento che non avrebbero però mai visto. Un fenomeno che negli ultimi anni si sta diffondendo a dismisura. La Polizia di Stato ha così elaborato un bademecum consultabile sul sito con dei consigli da seguire per gli acquisti sicuri in rete al fine di ridurre il rischio di cadere nelle trappole del truffatore. Il primo passo per chi cerca una casa vacanza è quello di valutare tre componenti fondamentali, il prezzo che va paragonata ad altri annunci, le foto ed infine la descrizione. Sempre bene può incontrare l'inserzionista per una visita della casa ed infine ma inviare documenti personali e non effettuare pagamenti su carte ricaricabili o con servizi di trasferimento di denaro, piuttosto la Polizia suggerisce di utilizzare metodi tracciabili.